Mi sento come nel giochetto di Super Mario che raccoglieva funghi per farli crescere. Oh, questo qui sembra proprio succoso. Il mio telefono! Ti ho presa! Che meravigliosa creatura. Ti salverò. Cosa diavolo? Ma dov'è l'una? Oh, freddo. E anche fame. Dove sono i miei funghetti? Hai fame? Sì. Il mio telefono è rotto. Non posso nemmeno chiamare i miei genitori. Sì! Questa roba gourmet dal menù speciale le piacerà. Gli darò un piccolo morso. Sulla terra li chiamano noodles. Guarda! Guarda! Iu! Leva subito quei cosi! Ho tanta fame! Devo trovare della frutta! Oh, tombola! Fammene prendere un po'. Una bella manciata! Una bella anguria! Ho fatto! Guarda! Eia! Free Ninja nella vita reale! Ho un'idea! Taglierò solo la parte superiore. Ora devo infilarci questo bastone di legno. Quanta polpa! Ce l'ho fatta! Non come con i succhi che si comprano nei negozi. Questo è al 100% naturale. Alla salute! Perfetto! Un bel condivento per i miei vermi. Ottimo lavoro, ragazza! Eh già? Codice marrone! Non sto parlando della Nutella! Ho un'emergenza! Diventa tutt'uno con madre natura. Io? Non posso farla qui! Ho un'idea! Cosa? Dove sta andando? Forse potrei farla qui. Potrebbe essere peggio. Ora fammi vedere. Pescare con mio padre mi sta tornando utile. Ecco qua. Una piccola sedia. E ora sapete cosa farò, vero? Grazie a questo buco sarà tutto più semplice. Ed ecco un sacchetto di plastica. Wow! E ora ho mai più! E ora mi devo pulire. Tu vieni qui. Questa carta è troppo piccola persino per Barbie. Iu! Non è bastata. Oh! Vittoria! Ok, credo di essere bella pulita. Cos'è quel ballo? Ma non conosco i passi. E io non so nemmeno guardare dove vado. Ti sei sporcata. Che cosa? Ora ho bisogno di farmi una doccia. Oh! Una doccia! Ti porto dove c'è acqua. Finalmente posso farmi una doccia. Vieni! Vieni! Guarda qua. Cosa? Ma stai scherzando? È una palude. Devo trovare dell'acqua pulita. Oh, è di nuovo triste. Pensi che ci siano delle terme in questa foresta? Ah? Può funzionare. Meno male che ho trovato dell'acqua pulita. Ora mi serve solo che gli editor del montaggio facciano il loro lavoro. Ecco, fighissimo. Sì, e ora devo solo metterla in alto. Non sbirciate. Uh, cosa stai facendo? Ehi, vattene non guardare. Non vedo niente, solo alberi. Ora creerò una tenda. Ora sono al sicuro. Adesso gli spettatori non possono sbirciare. E acqua fu. E piove. Il cielo sta diventando sempre più scuro. Oh, un bel fuoco. Sì. Avrò bisogno anche di questi. Sarà così che fa mio padre? Sì. Sì. Wow. Ora mi sento pulita e profumata. Siediti pure. Ah, grazie. Ho qualcosa di incastrato nel sedere. Ci penso io. I miei jeans preferiti. Non mi siederò più qui. Ma ho una soluzione. La pelle dei miei antenati. Oh, no. Fammelo aprire. Sta crescendo. Sarà vivo? Ui. Corri, Luna. Corri. Occhio. E' tutto a posto. Guarda. Adesso è pieno d'aria. Ed è così che si fa. Sono la maga dei trucchetti. Sì. Devo solo collegarlo. E clic. Finalmente posso riposarmi. Evviva. La pace dei sensi. Wow. Devo darle questi fiori. Com'è comodo. Oh. Ma quanto è alto? Ma è un alieno e potrebbe essere un problema. Ehi, ragazza pallida. Ho preso questi per te. Wow. Che bei colori. Si abbinano i tuoi... Occhi, sì. Ah, so cosa fare. Dove stai andando? Ho fatto un casino. E' ora di prendersi cura della pelle. Devo solo pigiarlo delicatamente sulla guancia. Non serve fare altro. Facciamolo. All in. Wow. Ma mancano i miei capelli. Meglio delle tinte a poco prezzo. Sorprendente. E il tocco finale. Fammi prendere la mia borsa. Guanti. Ne porto sempre un paio. Adesso mi assomiglio. Ehi, amico. Sei bellissima. L'ho fatto per te. Magico. Non posso crederci. Veramente magico. Insieme per sempre. Oh. Oh. Funziona. Luna. Dove sei? Che cosa è successo alla tua faccia? Mamma, ma mi sono persa. Il mio telefono si è spento e non sapevo dove andare. Poi te ne sei andata e... Ok, cambiati. Noi ti aspettiamo alla ferrovia, va bene? A dopo, mamma. Devo salutarlo. Ehi. Ehi. Io devo andare. Io capisco. Vorrei poter stare con te, ma apparteniamo a tribù diverse. Oh. Voglio darti qualcosa per ricordarti di me. Per favore, accetta questo. Il mio amuleto. È per te. È per me. Wow. Grazie. Non c'è di che. Prenditi cura di te. Gli addi fanno sempre schifo. Mi mancherà tantissimo. Così deliziosa. Ora mangi... Oh. Oh no, una vespa. No, tu non sei la benvenuta. Vai via. Mi dispiace, ma non mi dispiace. Oddio. Mi appunta. Che dolore. È un kit di pronto soccorso. Questo potrebbe servire. Vediamo. Cos'è questo? Sembra una seringa. Oh beh, usiamola. Figo. Sembra funzionare. Proviamo. Forza. Oh, simpatico. Funziona. Au. Che diamine. Mi appunto anche sulla gamba. Oh, fa niente. Userò questo coso... magico. Ehi, funziona meglio di quanto pensassi. E se... Proviamo. Oh no. Oh no, si è bloccata. Togliti dalla mia faccia, per favore. Ah, ritiro tutto quello che ho detto, piccola diavoleria. Mai più. Luna. Il telefono è spento. Ehi, tesoro. Ah, questo gioco è così bello. Ah sì, tesoro. Fammi provare. Va bene. Come si telefona? No, ma sul serio. Batteria scarica. Ah, vediamo cosa abbiamo qui. Per favore, per favore. Sì, utile. Oh, ma guarda un po'. Non sono sicura di come usarlo, ma ci proverò. Collegherò il caricabatterie e verificherò. Ho una buona sensazione. Ora collegherò il caricabatterie al telefono. Fantastico. Gira, gira, gira. Oh, ci vorrà un po'. Mi sto già stancando. Dai, caricati. Stai scherzando? Solo l'uno per cento. Andrà bene lo stesso. E ora posso provare. Che cosa? Avanti. Oh, nessun segnale. Come faccio a... Aspetta. So cosa fare. Mi aiuterai, vecchio albero. Andiamo. Oh, bene. E adesso? Oh, ancora niente. Cosa? Oh, aia. Mi fa male la testa. Oh, sono stanca di tutto questo. Voglio fare un pisolino. Dormirò così. O così. O magari così. Non riesco a trovare una buona posizione per dormire. Sto scomoda. Vediamo cosa posso fare. Oh, che cos'è questo? Perché è così lungo? Continuo ad andare avanti. Che diamine. Ma non dovevamo essere solo in tre. Va bene, fa niente. Vediamo cosa posso fare. Devo riempirlo d'aria, giusto? Andiamo. Altra aria. E ho finalmente. Ora chiudiamo questo coso in questo modo. E' fatto. Ora ho un posto dove dormire. Evviva. Ora va molto meglio. Buonanotte. Sta diventando freddo. Devo fare qualcosa. Zaino, conto su di te. Ci sarà qualcosa di utile. Ehi, sembra che ci sia. Andiamo. Userò questo albero per creare un posto migliore dove dormire. Ho solo bisogno di mettere lo scotch. E ancora. E ancora. Avrò bisogno di più nastro di quanto pensassi. Oh, è quasi pronta. Andiamo. Ah, finalmente. Alcuni ritocchi finali e via. Ci è voluto tutto il giorno. Ma almeno ora posso dormire comodamente. Ah, che meravigliosa hamaca. E guarda, la foresta è così pacifica. Meglio. Buonanotte. Ah, è già mattina. Ora di alzarsi. Buongiorno, bellezza. Questo sarà un... Un grande giorno. Devo trovare qualcosa da mangiare. Oh, spero che Luna abbia del cibo. Oh? Oh, così gustoso. Oh, sì. Spero che ce l'abbia. Va bene. Vediamo cosa ho nello zai. Oh? Niente da mangiare. E nelle tasche? Oh, c'è qualcosa. Che cos'è? Oh, un burstel. Bene. Ciao, colazione. Buttiamo via questi capelli. Eww. Mi servono delle uova. Oh, grande. Mi servivano proprio due belle uova. Eh? Ah. Ottimo. E ora avrò solo bisogno di... Questo. Cucinerò la mia colazione qui dentro. La metterò sul tavolo e romperò l'uovo all'interno. Ho infilato il burstel su uno spiedino. E sono pronta. Metterò il burstel nell'uovo. E vediamo cosa succede. Non è fantastico la mia colazione così pronta? Fatto. Sembra deliziosa. Deliziosa. Assaggiamola. E' così buona. Sia il burstel che l'uovo sono deliziosi. E' meglio di qualsiasi cosa mamma abbia mai cucinato. Oh, figo. Oh, no. Quando è successo? Devo pulirlo. Va bene. Vediamo. Oh, questa borsa sembra perfetta. Proviamoci. Ah. E adesso? Infilerò tutti i miei vestiti dentro in questo modo. E ora ci verserò dell'acqua. Figo. Vedi? Si sta riempiendo. Ora la chiuderò come ho fatto con il sacco a pelo. Bene. Al diavolo il detersivo. Tutto ciò di cui ho bisogno sono le mie mani. Ta-ta-ta. Userò le mie gambe. Ci ballerò sopra. Penso che siano pronti. Vediamo. Oh, è pulita. Eh? E' tutto bagnato. Va bene. Spremerò via l'acqua sporca. Io. Ora la lascerò asciugare. Va bene. Vediamo cosa abbiamo qui. E' una specie di fazzoletto. E se lo aprissi? Oh, è una gruccia gonfiabile. Quindi devo solo gonfiarlo. Andiamo. Oh, non è facile. Ah, finalmente. Ho una gruccia. E dei vestiti. Appenderò la maglietta bagnata alla gruccia. Asciugati presto. Ho freddo. Ah, fantastico. Appendiamo questo su un albero. Non sono un genio. Anche se questi vestiti mi ricordano qualcuno. Oh, è l'ultimo tocco. Ah, mi manca la mamma. Ciao mamma. Mi dispiace per i vestiti. Mi mancate, tu e papà. Dove siete? Oh, sono stanca. Devo bere. Niente acqua. Ah, devo fare qualcosa. Fa così caldo qui. Ah, ma prima non faceva così caldo. Per bacco. Penso che sto per svenire. E' questo? E' questo quello che penso che sia. Acqua. Sto arrivando. Eccomi. Finalmente un po' d'acqua. Oh, beh. Ehi, chi ha lasciato qui tanta spazzatura? L'acqua è così sporca. Ah, dovrei avere qualcosa nello zaino. Posso usare il mio filtro per l'acqua. Ci collegherò un tubicino. E l'altra estremità del tubicino andrà nell'acqua. Andiamo. Per pulire l'acqua, premerò questa levetta. Oh, questa leva è così piccola e carina. E l'acqua uscirà perfettamente pulita. Non vedo l'ora di berla. Finalmente la bottiglia è piena. Sì. Ah, che bella sensazione. Ah, finalmente sono idratata. Oh, no. Non le mie scarpe da ginnastica bianche. Ma stiamo scherzando. No, le mie scarpe. Aspetta un attimo. Zaino, non mi hai mai delusa fino ad adesso. Ehi, che cos'è questo coso? Un involucro rosa. E cos'è questo? Una compressa. Oh, ma è un fazzoletto. Forse dovrei scioglierlo in acqua. Ehi, funziona. Oh, che magia. Ora posso semplicemente lavare via tutto lo sporco ed ecco che sono di nuovo bianche. Oh, grande. Eccovi. Evviva. Stupende. E questo manterrà le mie scarpe pulite. Proviamo questi copriscarpi. Non è il massimo. Ma almeno funziona. Super. Evviva. Andiamo. Non ho più paura di niente. Ho risolto per le gambe, ma per le braccia. Luna! Oh, wow. Guarda, c'è un concerto stasera. Sì, sono. Scusa. Luna! Dove sono finita? Santo cielo. È un aereo. Aspettate. Voi potete salvarmi. Aiutatemi. Sono qui. Aiuto. Oh, no. Cos'altro può andare storto? Oh, che diamine. Penso di sapere cosa fare. Visto che nessuno mi sta salvando. Almeno fammi lavare il viso. Oh, sono così intelligente. E ora userò questi mini bastoncini per fare una mini doccia. Uh-huh. Sì, funziona. Posso finalmente lavarmi la faccia. Ho sudato di più in questi giorni che in tutta la mia vita. Ah, ma essere pulito è così bello. Oh, mi sento così sola. Huggy, wuggy, puoi aiutarmi? Che posso fare io? Oh, certo che non puoi. Sei solo un giocattolo. Vorrei sapere dove sono i miei genitori. Ragazza, guarda laggiù. Eccoli. Oh, puoi parlare. Luna! Luna! Tesoro, non la troviamo. Dobbiamo trovare nostra figlia. Mamma, papà! Grazie, ghiwani! Non so cosa fare. Cosa, Luna? Papà, mamma! Ti ho cercati per così tanto tempo. Siamo così felici che tu sia viva, noi. Guarda, che cos'è? Cosa? Cosa sta succedendo qui? Che cos'è? Diamo un'occhiata su. Mamma, papà. Hai fatto tutto da sola? Che cosa sono tutte queste cose? Finalmente il mio zaino! Che bella sedia! Oh, un vero marshmallow! Cos'è questo? Ma che cos'è? Un vero buzzer? Questo è veramente forte, devo vederlo. Accidentico! Sono bloccata, aiuto! Oh, salve! Mia signora, non le dispiace se... Fa niente. Almeno ora posso rilassarmi un po' su questa sedia. Lascerò che questi due si divertano. Immagino. 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 Ci sono...